Ciao, mi chiamo Timothy Hoffman, vengo da Lugano, sono disegnatore di illustrazioni e fumetti. Lo spallone, il mio poster, appunto preso ispirazione della figura del contrabbandiere che ha avuto luogo tra il Ticino e l'Italia e anche in parte l'Austria tra il 1800 e il 1900. Il mio processo creativo essenzialmente mi torturo psicologicamente finché non succede qualcosa, però prendo ispirazione appunto dall'identità e la eredità culturale delle regioni geografiche. L'arte online è il futuro, l'online è dove consumo maggior parte dei contenuti quindi penso che nel futuro sarà sempre più così anche per tutti quanti.